Salve a tutti, io cercherò di recuperare qualche minuto strada facendo di modo che riusciamo un po' a rientrare nei tempi. Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifiche che vengono svolte in ambito ECM, ovviamente la base normativa è fornita sempre dall'accordo Stato-Regioni all'interno del quale si prevede l'adozione di uno specifico manuale che è in corso di elaborazione avendo ad oggetto tutte le diverse tipologie di verifica che vengono svolte dalla Commissione e dagli organismi ausiliari. Volendo dividere questa tipologia di materia in due macro aree possiamo distinguere le verifiche sulla struttura organizzativa del provider dalle verifiche sulle attività formative, quindi sugli eventi. Cercherò di fare una panoramica di inquadramento per poi consentire al collega di soffermarsi di più sulla parte delle verifiche informatiche. Dunque per quanto riguarda le verifiche sulla struttura organizzativa del provider si tratta di verifiche svolte dalla Commissione nazionale ECM per il tramite della segreteria e sono attivate a seguito di stanza. Si tratta di verifiche e quindi di procedimenti di accreditamento provvisorio standard e di rinnovo dell'accreditamento standard già dettagliatamente trattati nelle relazioni precedenti. Per quanto riguarda la procedura nazionale di accreditamento provvisorio mi limito a dire che si tratta di una verifica cartolare che ha ad oggetto, come molte di queste attività, essendo attività multidisciplinari, una verifica in ambito giuridico-amministrativo una parte sugli aspetti scientifico qualitativi ed un'altra sulla parte tecnico-informatica. Stesso dicasi per le procedure di accreditamento standard e di rinnovo dell'accreditamento standard che da un punto di vista logistico presuppongono una verifica in loco, nel primo caso presso la sede legale o operativa del provider nel secondo in sede di evento e mirano a verificare direttamente in concreto la solidità della struttura organizzativa e l'aderenza ai requisiti previsti in via generale dall'accordo Stato-Regioni che poi sono dettagliati nel manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM. Naturalmente queste verifiche seguono tutta la disciplina generale vigente in tema di procedimento amministrativo quindi quanto previsto dalla legge 241 del 1990 e in buona sostanza accertata la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento la Commissione nazionale notifica al soggetto istante l'avvenuto accreditamento con uno specifico provvedimento aggiornando contestualmente l'albo nazionale dei provider di modo da dare immediata evidenza della determinazione assunta. Nel caso in cui si accerti qualche difficoltà nel riscontrare i requisiti minimi e standard nell'ambito della procedura di accreditamento provvisorio è naturalmente prevista una fase di integrazione e di modifica dei dati dichiarati indicando un termine al soggetto verificato e qualora le criticità persistano nonostante la fase di contraddittorio l'ente accreditante adotta un provvedimento di diniego dell'accreditamento provvisorio seguendo la normativa generale in tema di procedimento. Per quanto concerne il caso di verifica finalizzata dall'accreditamento standard o al suo rinnovo da un punto di vista di inquadramento generale delle procedure quanto detto in precedenza continua a valere pertanto viene comunque notificato un provvedimento di diniego standard o di rinnovo e in caso di diniego viene comunque data idonea pubblicità a garanzia dei discenti della determinazione assunta dalla Commissione nazionale ECM. Naturalmente dalla data di notifica del provvedimento l'interessato cessa di essere provider e non può erogare più attività formativa. In ogni caso dovrà essere versato il contributo alle spese per l'anno in corso quello nel quale la procedura di accreditamento è stata in piedi e anche il contributo per gli eventi medio tempore svolti. Dovrà soprattutto, questo è un aspetto molto importante, trasmettere il report dei discenti per consentire a chi effettivamente le attività formative le ha svolte e vi ha partecipato ed ha acquisito i crediti di veder riconosciuto il proprio diritto al riconoscimento dei crediti e attestare i crediti rilasciati esclusivamente per gli eventi già svolto in corso alla data della notifica del provvedimento. Cioè non ne potranno essere dopo la notifica programmati e inseriti di nuovi. Una volta pervenuto il provvedimento di diniego la domanda potrà essere ripresentata nuovamente ma dopo il decorso di sei mesi dalla data di notifica. Per quanto riguarda invece l'altra macro categoria di verifiche sulle attività formative ECM qui esistono due tipologie di verifiche, quelle sugli eventi in corso di svolgimento e sugli eventi invece che si sono già conclusi tenendo presente che il provider ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente all'attività svolta per almeno cinque anni. Pertanto anche gli eventi già svolti possono essere oggetto di verifica a prescindere dalla tipologia, quindi sia che si tratti di formazione residenziale che si tratti di formazione sul campo a distanza o mista, blended. Per quanto riguarda gli eventi in corso di svolgimento queste tipologie di verifiche si articolano in tre sottocategorie e sono quelle di competenza del Comitato di Garanzia di cui abbiamo parlato questa mattina in riferimento all'indipendenza dei contenuti formativi dagli interessi commerciali in sanità. Quelle naturalmente che svolge l'Osservatorio Nazionale per la Qualità sulla Formazione Continua volte ad accertare la qualità scientifica e didattica dei contenuti e la coerenza delle attività formative con gli obiettivi formativi programmati e le verifiche poi di competenza della Commissione Nazionale per il tramite della segreteria volte ad accertare il mantenimento dei requisiti eventualmente già riconosciuti in fase di accreditamento perché naturalmente il provider una volta conseguito l'accreditamento deve continuare a mantenere quei requisiti sulla base dei quali il provvedimento è stato adottato. Tutte le diverse tipologie di verifica incidono sul mantenimento della qualifica di provider a prescindere appunto se si tratti di una verifica su un evento o sulla struttura organizzativa a prescindere dall'organismo che conduce le attività iniziali di verifica. Anche per questa tipologia di verifica sugli eventi la scelta è stata quella di coinvolgere professionalità di vario genere per cui naturalmente sanitarie, giuridiche ed amministrative al fine di riscontrare tutti i requisiti che il provider come struttura per definizione complessa deve naturalmente avere e mantenere. Per quanto riguarda l'attivazione delle verifiche sugli eventi, anche qui come anticipato in mattinata è prevista l'attivazione, previa segnalazione da parte di uno degli organismi della governance del sistema ECM oppure previa segnalazione esterna, naturalmente qualunque utente, qualunque soggetto interessato può inviare una comunicazione agli uffici competenti tramite i canali di comunicazione che dopo verranno esposti oppure la verifica può essere svolta a campione nell'esercizio delle attività naturalmente istituzionali. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento non tutte le verifiche presuppongono un preavviso vi sono anche verifiche svolte senza preavviso, è prevista la redazione di un verbale e non in tutte le tipologie di verifiche la valutazione per gli aspetti scientifico-sanitari viene effettuata contestualmente al momento in cui fisicamente le persone si regano in loco quindi è possibile che in quell'occasione vengano acquisiti degli strumenti, dei documenti qualcosa che consenta poi di svolgere questa verifica in maniera più approfondita. Per tutta la parte sulle strumentazioni informatiche naturalmente sarà il collega a darvi le relative delucidazioni. Da un punto di vista proprio materiale di svolgimento delle attività gli incaricati che svolgono la verifica cercheranno di entrare in contatto con il legale rappresentante in subordine con il responsabile della segreteria ove non fosse presente, ove non fosse possibile intracciare il responsabile della segreteria si cercherà di prendere contatto con il responsabile scientifico dell'evento l'ordine non è casuale perché ci rendiamo conto che il responsabile scientifico dell'evento naturalmente durante lo svolgimento dell'evento è impegnato anche per quanto riguarda gli aspetti didattici ove nessuno di questi soggetti possa essere individuato è possibile la nomina naturalmente di un delegato da parte del legale rappresentante per seguire lo svolgimento della verifica e sottoscrivere poi il verbale per ricevuta di consegna. Qualora nessuno dei soggetti indicati fosse presente all'evento gli incaricati che svolgono la verifica procederanno comunque redigendo il verbale e comunicheranno poi il verbale redatto al legale rappresentante del provider tramite i sistemi ordinari di comunicazione e con la posta elettronica certificata. Una cosa che mi preme sottolineare è che nello svolgimento delle verifiche in loco con la redazione del verbale l'eventuale rilievo di una criticità non è di per sé determinante ai fini della individuazione di una violazione. Questo vuol dire che viene valutata l'intera posizione del provider in un certo senso non ci si attacca alla forma e al singolo specifico indicatore ma si prevede poi un contraddittorio per chiarire tutti gli elementi e fornire agli organi di governance un panorama completo della posizione generale del provider. Stessa tipologia di verifica viene svolta anche in riferimento agli eventi già conclusi quindi non in corso di svolgimento e i materiali che normalmente possono essere chiesti per lo svolgimento di queste attività sono quelli noti e più quindi il programma, materiale didattico, le schede sulla qualità percepita la documentazione sull'apprendimento, i diversi CV nei vari formati nella disponibilità del provider, i contratti di sponsorizzazione o l'altra documentazione attestante all'esistenza delle diverse forme di finanziamento. Eseguite comunque tutte le attività istruttorie necessarie i procedimenti di verifica in caso di buon esito vengono archiviati in caso contrario danno luogo all'attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza della Commissione nazionale secondo la normativa prevista dal titolo terzo dell'accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola al collega Simone Gagnocco.